Buongiorno, io utilizzo questo amplificatore per questo cabinato dell'Arcade OneUp dove l'audio, dopo la mia modifica con Pandora Box, era molto basso così è già al massimo purtroppo, sentite che è basso, ora si percepisce, no? l'incremento è di un 30%, quindi non è esagerato ma nel mio caso comunque si nota palesemente la differenza e per me va benissimo forse anche più di un 30%, ovvio che è una stima mia a orecchio no, forse anche un 50%, quindi sono contentissimo a mio acquisto ragazzi mi ha risolto un problemone